Bene amici della Sanotech World, video che sto girando in full HD a 60 fps con la SJCAM SJ5000 Plus Guadagno a microfoni compostato al 70%, facciamo un piccolo zoom per vedere la bontà del sensore Lo intendo ricaricare il video senza passare da nessun tipo di programma in modo tale che riuscirete poi anche a settare il 1080p a 60 fps direttamente su YouTube Andiamo a vedere un attimino la bontà del sensore Ci rialziamo Poi ritorniamo qua Andiamo a vedere anche la stabilizzazione dell'immagine e come funziona Ecco qua, perfetto Vi lascio con questo paesaggio di una stupenda giornata di fine agosto Ciao e al prossimo video